A ciuffati i ladri è recuperata la refurtiva. È stato tentato un furto di gioielli al centro commerciale di Priolo. Sono stati arrestati dai carabinieri una donna, Campisi Isabella, classe 73 disoccupata e un siracusano di 40 anni. I due si sono introdotti all'interno di una gioielleria del centro commerciale della zona priolese, trafugando dal bancone e celandolo all'interno della borsa della donna un bracciale di valore di 800 euro. I carabinieri hanno tratto in arresto la coppia, mentre la refurtiva, interamente recuperata, è stata restituita all'avente diritto. A Cassibile, invece, i carabinieri hanno sequestrato una casa vacanza in costruzione e hanno denunciato una donna siracusana, legale a rappresentante di una società immobiliare del capoluogo, ritenuta responsabile di aver realizzato opere edilizie abusive. La villetta in zona Renella è stata realizzata in col lavoro di ampliamenti della volumetria attraverso la chiusura di verande e balconi senza le necessarie autorizzazioni. La villetta è stata sottoposta a sequestra a disposizione dell'autorità giudiziaria. Conclusosi ieri il ciclo di programmazione del comune di Siracusa con l'approvazione del bilancio del documento unico di programmazione 2020-2022. Il 10 gennaio la giunta aveva adottato lo schema di bilancio che è stato approvato il 18 febbraio dal commissario straordinario e il termine di scadenza per l'approvazione sarebbe scaduto il 30 marzo. L'approvazione in anticipo rispetto al termine di legge del bilancio dei documenti di programmazione, dice l'assessore Pietro Coppa, è una novità assoluta per il comune di Siracusa. Iniziamo a raccogliere frutti di un lavoro avviato sin dall'inizio di questo mandato. Già lo scorso anno la giunta aveva adottato lo schema di bilancio del 2019 nel mese di aprile, poi approvato dal Consiglio Comunale il 30 agosto. Nei prossimi 20 giorni la giunta dovrà approvare il piano esecutivo di gestione, il PEG, che è lo strumento di attuazione del bilancio 2020 e che consentirà all'apparato amministrativo di realizzare gli obiettivi fissati per il 2020. Non appena la giunta approverà il PEG, conclude l'assessore Coppa, l'amministrazione organizzerà un incontro pubblico per illustrarlo. Appello dei sindacati Fenella, Will, Filca, Cisle e Fillea CGL che continuano la battaglia per la legalità nel settore costruzioni, segnalati agli organi preposti sette cantieri irregolari che si aggiungono ai 46 segnalati nell'ultimo mese su Avola ed Augusta. Stavolta si punta il dito per il comune di Lentini e si chieda che sospenda le concessioni di lizi nei cantieri irregolari. Questa è l'ennesima forte richiesta avanzata al comune di Lentini stamattina da parte del sindacato degli Edili. Siamo in presenza, dicono i sindacati, di irregolarità nei confronti dei lavoratori occupati presso le imprese segnalate dai contributi contrattuali Cassa Edile per omessi incompleti versamente alla presenza di lavoro nero, dichiarano i segretari. Si sospenda la concessione fino a quando non avverrà la regolarizzazione. Carnevale particolarmente sentito in Sicilia nel nostro capoluogo, festeggiamenti che prenderanno il via oggi giovedì grasso e termineranno martedì prossimo. Tra carri, maschere, musiche, balle si ci lancia verso il divertimento iniziato anche con largo anticipo in alcuni centri rinomati della Sicilia per la tradizionale festa dedicata al re più pazzo dell'anno. Ad esempio le immagini parlano del grande spettacolo offerto già da Cireale. Palazzo Lacraide e Avola sono i comuni della provincia di Siracusa a garantire un più forte spettacolo carnevalesco. Nell'antico borgo dei Monti Iblei si inizia proprio oggi con una festa dedicata ai bimbi. Poi invece sabato 2 i gemelli diversi in festa alle ore 22, domenica il raduno dei carri che sfiliranno anche martedì. Discoteca sotto le stelle in piazza Predura con DJ Fargetta per domenica 23, mentre domenica 25 Palazzo Lacraide offre la discoteca di Piazza del Popolo con FM Italia in tour. Avola invece destina la mattina ai più piccoli proprio del giovedì grasso, mentre di pomeriggio la sfilata alle ore 16 del re carnevale per tutta la città accompagnato dalla banda musicale. Domenica 23 le grandi sfilate dei carri allegorici, con particolare attenzione a quelli infiorati. La serata sarà conclusa da FM Italia, carri che sfileranno anche lunedì 24 e martedì 25, quando la conclusione sarà affidata allo spettacolo offerto da Anna Mena, il suo corpo di ballo e dalla madrina della serata, Simona Ventura. Anche il carnevale melillese giunto alla 62esima edizione propone un vasto parterre di ospiti. Giovedì 20 si presenta il re carnevale la sassizzata, venerdì 21 invece alle ore 21 sassa salvaggio. Giorno 22 gruppi in maschera e alla sera Luigi Zammitti. Domenica 23 sarà Maggioglio a guidare la sfilata dei carri allegorici e alle 22 suoneranno invece DJ Jump e Martin di Radio 105. Giorno 24 sfilata dei gruppi in maschera, ora 23 DJ Setta. Giorno 25 invece si chiuderà dopo la sfilata dei carri allegorici con Aida Jespica e il gruppo Il Pagante. Ancora stato di agitazione per i dipendenti della Prosat, la ditta che si occupa della raccolta differenziata all'interno di Comune di Floridia. Per giorno 5 e 6 sono stati proclamati ancora due giorni di sciopero, così perlomeno sottolineano in una nota la funzione pubblica CGL Branciamore Tommaso e Renzo Spada per FSI USAE. Si prende atto del mancato pagamento di 4-5 mensilità. Ad oggi nessun piano di rientro è pervenuto alle organizzazioni sindacali, così come d'accordo della Prefettura il 30 di dicembre. Perdurano le assurde condizioni in cui versano i dipendenti ancora oggi e le incertezze sulla retribuzione futura. Specificano i sindacati che il Comune avrebbe versato nelle casse Prosat una fattura intera più il 70% circa saldo della fattura precedente ed una terza fattura circa quattro giorni fa. In un'ottica della risoluzione più urgente del problema si chiede la disponibilità di incontrarsi e si comunica la proclamazione dello sciopero e si chiede a Sua Eccellenza e il Prefetto un incontro urgente al fine di trovare le giuste e necessarie soluzioni del caso. Una grande ortigia, forse la più bella della stagione, supera la sport management e risalda la terza posizione allungando proprio sui lombardi, ora distanti di 5 lunghezze. Per il tecnico Piccardi un'ottima risposta dei suoi ragazzi in vista dell'importantissima semifinale di andata in Eurocup sabato pomeriggio ore 18 a Oradea.